musica 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 datemi la vita perchè non mi danno allora raga quanto oro abbiamo? solo quello che abbiamo appena trovato che stai scavando da te ok però c'è anche davanti la qualcos'altro eh si minchia tizio che colpa mi hai fatto prendere si è tornato eh dove è l'enderman maza dimmi dove è l'enderman no 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 ho toppato dove c'è l'enderman ok qua c'è ancora il drop di chris prendo io prendo io prendo io muoviti c'è ancora lo scheletro infame no l'ho ucciso posso arrivarci mi rompe il blocco devo togliermi 5 cuori anche prendi tutto veloce torna qua subito torna qua subito qui sotto ci sono raga qui sotto ci sono un creeper e due scheletri dove? con la mia roba a sinistra dove c'è l'acqua ok perfetto no 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 what the fuck vabbè tanto io devo perdere mezzo cuore allora calma un attimo un cuore sto perdendo i cuori frate no sono sono ci conviene scendere da questo lato mi sa e ma frate ma aspetta un attimo sei qua tappassimo e andiamo di la eh tappa allora se riesci cuore la scala della perbù al mezzo di cuore what allora calma masa fammi scendere a me prima la scala della vergogna ok perfetto qua tappa bravo di la c'è un'altra caverna con della redstone potrebbe esserci del diamante potenzialmente la eh uno ok qua mi devi dare tutta la mia roba che ci sta frecciando non io non so dove viene qualcuno ci sta frecciando non sicuro la c'è del lapis che non si deve balzare occhio occhio c'è uno scheletto qua in avanti e lì c'è dell'oro calma 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 masa vai via masa vai via come mi ha preso si zii mi serve la mia roba io non posso fare nulla eh qui un attimo ok dove sei qua vieni qua raga io devo mangiare la mia dora per forza ho quattro cuori mangia mangia allora calma un attimo tieni qua tieni qua tieni qua e poi non so cosa vi va torce ok tieni qua 48 torce grazie mi dai anche sto troppo in ansia cazzo sto troppo in ansia mamma mia cosa sei facendo cosa sei bloccato sono più il sad allora qua metto a cuocere sto oro quanto oro hai masa? 9 ok io ne ho 7 sono 6 ci sono 2000 d'oro aspettate c'era più c'era dell'oro di qua l'ho preso no non l'ho preso ancora vai la vai la vai la occhio eh va avanti te che c'è più cuori no che c'è più cuori ma che devo prendere la via con il diamante madonna mia quanto cazzo difficile ok ho preso ho preso anche quest'oro qua ok prendi 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 dove hai messo la fornace l'ho messo a cuocere dell'oro la dietro ok lo metto in chi quale fornace scusa non la trovo qua ho trovato altro oro per che altezza siamo 11 allora cagatemi un attimo merda dimmi dove sei tizio torno indietro mi si è rotto il piccone oh altro oro altro oro prendi 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 masa occhio che davanti a te sbuchi dove c'è la lava che livello siamo raga sì lo so siamo altezza 11 perfetto mi dai il cibo marco scusami cibo tieni qua e tieni un po' di carne a marcia e questo grazie allora cagatemi un attimo qua dietro puoi andare verso i la ma c'è un'altra caverna con della redstone però fermo perchè qua c'è un scheletro e un creeper no col cavolo che ci vado allora quindi si può andare ma bisogna essere tattici io mi mangio una mela d'oro adesso perchè devo farmela raga posso? eh anch'io lo vorrei allora calma me la d'oro me la mangio sono rimasto incastrato? ok non ce l'abbiamo un secco io d'acqua? raga si è buggato tutto cosa? è un pezzo di farina no 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 raga no che è mark? uuuuuh porco demonio fermi non spaccate niente qua non spaccate niente perchè cosa c'era? qua sotto c'è uno scheletro qua davanti che mi stava guardando no non andarci ho messo un blocco d'oro un pezzo d'oro l'ho preso perchè mi sono fatto la mela d'oro mi hai dato un pezzo di ferro? devi cuocere i tokeni madonna raga le mele sono su merda dio perchè le hai lasciate su? eh frate le ho lasciate su perchè se moriamo che cazzo succede? vero per uccidere gli scheletri li bisogna essere tattici allora critus è andato verso di qua vero? quanto ferro ho? 6 metto a cuocere anche il ferro già che ci sono allora qua allora io c'ho il 9 di oro raga io vorrei andare di sopra a prendere la mele eh vai su a prendere le mele allora Masa ti ricordi quando hai fatto il primo spiazzo proprio quello primo primo? c'è una serie di ceste e lì ci sono entrati 8 mele ok raga figa io mi sono di occhio eh si ho visto c'è uno scheletro qua dove? va dietro la casa di warband ok 8 mele eccole qua no figo non devi spaccarlo quel blocco sennò ti freccia ok bravissimo prendi le frecce e torna indietro c'è qualcosa lì dietro? eh vabbè c'è un creeper c'è un creeper da queste chest qui? eh no devi solo prendere le mele da là fra te ma le porto giù o le lascio qui? mmm non so prendere no 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 c'è uno scheletro con l'arco tiratissimo via ok ucciso 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 le uccis o uccisa? si siinsi ok madonna mia e zia la prossima mele la devo mangiare no tre zombie ok io ho parato tutte le mele e c' ho anche un lingotto bullo ma panna dai ma moriamo cosa? E infatti Madonna mia Io devo mangiare la mela d'oro adesso Devo Io voglio una mela d'oro Cazzo Posso mangiare la prossima mela d'oro? Raga, tier c'è tre cuori Quanto ha? Tre cuori, tierless Raga, non abbiamo diamanti È questo il problema Quello è il problema, sì Kree, ti fidi? Hai mangiato cosa? Una mela d'oro Dove vengo Allora, Kree, guardami un attimo Dimmi tutto Vuoi andar qua sotto? Allora, preparati quel blocco in mano Io qua spacco e vedo cosa c'è Se è pericoloso, blocca subito Ok, vai, ci sono Ok, per ora no Allora qua No, Kree, vediamo un attimo Un altro Qua di lato No, perché Kree Io sono sicuro qua c'era un creeper e due schede Scendi, puoi scendere Trovato, ho trovato Ho trovato un altro punto dove c'è la via per l'Henderman L'ho chiuso Non mi fido, mi spiace Io sono in toschede Kree Ho ucciso io Ho ucciso io Ho ucciso io Ho ucciso io Bravo No, Kree, vieni su perché lì c'è un altro schede No, ah, ok, lo vedo Ragazzi, c'è uno schede qui a destra Dai, chi è che lo colpisce? Io È un grande Però sta venendo da te, sta venendo da te Non c'è, non c'è, non c'è Sta venendo da te, fidati Un po' te lo trovi a fianco Eh, lo so, ma prendo il ferro Vaffanculo Ops Marco Se c'era la lava, ma è morto L'hai ucciso? Preso, ho ucciso Ok, scendiamo Ok, top, 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 top Ok, qua si torcifica tutto Qua spacca Andiamo di qua Vedo l'acqua, attento che magari là Sì, sì La connessione Stavo di lato Dove siete? Sotto Siamo dove erano prima, solo che siamo andati un po' più avanti Caverna Ora Sembra di vedere questi diamanti Eh, magari Dovevo prendere quell'acqua Masa, occhio e le collisioni Occhio alla lava Coprila, coprila tutta Per questo che vorrei un sacchio d'acqua Se avete il ferro, vado a farlo E prendiamo quest'acqua qui Così chiudiamo Dopo lo facciamo Raga, il diamante Ho 8 di oro che sta cuocendo, raga Perfetto A livello siamo giusto come livello, raga Per i diamanti Sì, sì Abbiamo un sacco di vele Possiamo rigenerarci del tutto, quasi No, teoricamente sì Eh, ma sai che tier è tattico Tier le mangia sull'ultimo e rimane così piuttosto Infatti Lui la rischia Ragazzi, quando scavate non lasciate punti bui No, no, no Illumina tutto e ciao belli Vado a prendermi il mio Chris, come hai smesso? Io sono messo bene Cioè ho metà dei cuori Sto andando a esplorare Maza dove sta andando? Sto continuando per questa strada qui Per vedere se c'è qualcosa C'è qualcosa? Oro Lapislazzoli Prendi i lapis Prendi i lapis Prendiamo i lapis Che magari se troviamo il diamante Pensiamo all'enchanting Sono lì, sono lì Ok, qua sento zombie però Quanto cazzo è grande sta caverna Ma sai cosa? La witch che ho visto prima Del cazzo sarà finita Spero che sia scomparsa Fratti dove sei? Eh, sono un po' scusato Ah, ti ho visto Che c'è? Cosa? Mi chiamate, mi ha lasciato un buco per la lava Per la morte Ragazzi, noi abbiamo trovato una caverna della madonna Ma che fa cagare Cioè ci rendiamo con Sì, infatti Ma la fai Bro Quanto ora abbiamo, lì, raga? Zero Io ne ho otto da lavorare Io ne ho due da cuocere No, lì c'è uno schietro Non l'ho visto Mi ha frecciato No, rega, rega, rega Arrivo, arrivo, arrivo Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei Sto scappando da Masa Sto scappando da Masa Vieni, 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 vieni Dove sei? No, ho sbagliato No, dammi E non c'ho ancora l'elmetto però Senti, vuoi tappare Facciamo una seconda base qua? Eh, è lì, è lì, è lì Masa, non vai via Dove devo farmi delle torce? Ti sei lì davanti a te appena vivi, eh Metti una workbench, Mark, che facciamo un secondo punto qua Io mi faccio nel mat, che non ce l'ho Va bene Ok, che si fa sotto da qua? Sì, sono andato di là e sono tornato Qualcuno può mettere una workbench, grazie Ah sì, scusami, scusami Sto a pensare una cosa C'ero io, c'ero io, tieni qua Ehm... Mettila giù direttamente Comunque, sia a Erano, anche se si bugge di attacchi Neanche un cuore l'ho perso Ma che schifo Sì, era un cuore Mi è che ha preso il ferro che stavo cuocendo Figli della merda Riccino sicuro Sicuro Guarda, scommetto 100 euro Noi, ho dovuto farmi un piccone Che merda È il mio lavoro, è il mio lavoro, ragazzi Infame A che livello siamo, raga, qua? 10 Io sono al 10 Lui è al 10, noi siamo al 14 Dovremmo scendere un po' effettivamente ora Mettano ha fatto il primo piccone adesso, ragazzi, complimenti Che scazzo A 10 non lo so Noi sta sotto questo carbone Vai avanti per entità, Kri? Ehm, no Vado avanti per... Io sono culoso e troverò il diamante Allora, io qua è Piazza Tre Torce per dire la strada per tornare a casa Poi tappo perché metti in casa ci viene qualcuno indietro Ce lo batte nel culo a tutti Parti Ehm, dove andiamo? È questo il dilemma Cioè Lava vuol dire... C'è una mezza caverna Vuol dire può esserci... Eh, pot... Mh... Questa è lava brutta, però Cioè, che è quella lì che spona così a caso Voglio vedere dove arriva sta lava In realtà sono senza diamante, ragazzi Effettivamente è troppo... Cioè Dobbiamo... Fatte Risolvere questo... Questo vuoto Finito l'episodio Eccolo Senza diamante Eeeh!